Una serata e un concerto in ricordo di Florio Ghinelli è stata quella organizzata dall'Avis comunale di Ferrara venerdì 21 giugno alla Rivana Garden in occasione della giornata mondiale del donatore. Il giorno prima l'associazione donatori di sangue ha tenuto un convegno a Wunderkammer sulla disabilità al pomeriggio dello stesso giorno la messa ufficiata dall'arcivescovo di Ferrara e Comacchio Monsignor Giancarlo Perego alla Sacra Famiglia poi venerdì sera uno dei momenti più toccanti di queste celebrazioni alla presenza della moglie e dei figli di Florio Ghinelli figura storica della Gino Neri e dell'Avis Ferrarese il concerto dell'orchestra a pletro è stato diretto da Pier Claudio Fei e Francesco Zamorani. Una serata introdotta dal presidente dell'Avis comunale di Ferrara Sergio Mazzini che ha ringraziato il pubblico nutrito vista la serata estiva molto calda e affosa al ridosso del fine settimana una serata in musica sulle note dei grandi classici eseguiti magistralmente dall'orchestra a plettro Gino Neri. Grazie. 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 Grazie.